Siamo in procedimento della festa patronale di Bagheria, abbiamo qui presente la Presidente di un'associazione che sta organizzando l'evento di giorno 5. Signora, mi dico un po' che ruolo ha in questa associazione e come è stata creata questa associazione. Mi dico un po' lei. Salve, mi chiamo Matilde Buttitta, sono la Presidente dell'Associazione Nazionale La Casa del Batterista, sede di Bagheria denominata Ritmi e Sound. Quest'accademia è presente in tutta Italia e abbiamo praticamente 45 filiali in tutto il territorio nazionale. Ci occupiamo principalmente di corsi di musica che sono stati riconosciuti al Ministero dell'Economia e dello Sviluppo, quindi i nostri diplomi sono per l'appunto riconosciuti a livello nazionale. per questa occasione dell'evento della festività. La nostra associazione si sta proprio occupando di omaggiare un intero spettacolo al Comune di Bagheria per offrire anche a musicisti, a persone diciamo dello spettacolo, anche un modo di farsi conoscere. Tra l'altro la nostra accademia vanta anche il fatto che possiamo organizzare degli spettacoli da un punto di vista anche internazionale perché la sede principale di Pescara organizza proprio dei masterclasser con i più famosi musicisti di fama internazionale. Masterclasser che praticamente riguardano Billy Cobham, Dave Weck, Virgil Donati, Gaby Harrison. Tra l'altro proprio il direttore dell'Accademia, Emanuele Cina, che è un batterista abilitato presso l'Accademia di Pescara, ultimamente proprio ha fatto un masterclass con Virgil Donati. Si esibirà appunto anche proprio per l'evento della festa di Bagheria. Tra l'altro eseguirà anche il suo ultimo riarrangiamento tratto da Jacopo Astorius che si intitola The Chicken e poi si esibirà inoltre con il suo ultimo CD audio-video dal titolo Fortuna tratto dai Carmina Burana, la gramia nazionale della batteria che ci deluciderà sui corsi appunto di questa associazione. Mi dica lei. Allora, ricollegandomi al discorso che ha fatto la Presidente volevo parlare dei corsi. I corsi sono aperti a bambini da 5 anni in su, corsi per studenti e corsi per bambini e adulti portatori di handicap perché secondo uno studio della Queensland University of Technology in questi bambini lo studio della batteria impegnando i quattro arti aiuta tantissimo nelle abilità motori. Noi ci troviamo in via San Giovanni Bosto numero 112 a Bagheria e partiremo da settembre. Per tutti coloro che vogliono intraprendere questo percorso di studio o ci possono contattare tramite Facebook oppure tramite il nostro sito internet www.lacasadelbatterista.it